28-29 agosto è il weekend in cui inizierà il campionato Primavera 1, la Serie A della categoria conquistata con grande fatica dal Napoli. Gli azzurrini di Frustalupi lavorano per arrivarci al meglio, oggi contro la Turris il primo test dopo il ritiro di Casteldisangro. Attore del Greco, c'è il primo abbraccio col pubblico dopo la pandemia. Circa 500 spettatori allo Stadio Liguori hanno applaudito la loro squadra che si prepara per il campionato di Serie C. Il Napoli deve fare a meno di tanti ragazzi aggregati in prima squadra o infortunati. Mancano Idasiak, D'Agostino, Cioffi, Spedalieri e Marchisano. La Turris impone il gioco per tutta la gara. Al quattordicesimo va vicino al vantaggio, l'ex azzurro Daniele Franco trova la risposta di Pinto. Longo va a segno ma è in fuorigioco e la rete viene annullata. Il gol arriva sei minuti dopo e lo realizza un ex del bivaio del Napoli. Il trequartista classe 89 Giannone su punizione beffa la barriera e Pinto tra i pali. Dopo il vantaggio la Turris attacca ancora. Al ventiduesimo cross di Varrutti dalla sinistra. Sul secondo palo va il tiro annunziante. Pinto è attento e respinge la conclusione. Al quarantaquattresimo il primo tiro in porta del Napoli. Ci prova Marranzino e colpisce la traversa. Nell'intervallo Frustalupi realizza un solo cambio. Entra Gioielli per Longobardi. Al sessantunesimo è la Turris ad iniziare la girandola dei cambi. Un minuto dopo Marranzino ha una chance ma il suo tiro è debole e Perina lo blocca. Al settantesimo Vergara spalle alla porta inventa una bella giocata. Tenta un pallonetto che termina a lato. È l'ultimo tentativo del Napoli. Poi è monologo Turris. Al settantasettesimo doppia occasione per Pandolfi. Prima fa Muro Pontillo. Poi sul colpo di testa gli dice di no Provitolo con l'aiuto del palo. All'ottantatresimo la Turris insiste. Calcio d'angolo dalla destra. Stacca Dinunzio. Pallone alto sopra la traversa. Finisce 1-0 a Liguri. La primavera del Napoli continua la sua preparazione. Il prossimo test dovrebbe essere il 21 agosto sul campo del San Giorgio. Ne ho promosso in Serie D.